Siamo con con fratello Nicola De Torre, detto Nicolino, che domani celebra la sua professione perpetua con i padri passionisti. Con fratello Nicola, come nasce la scelta di diventare passionista? La scelta di diventare passionista nasce da una missione fatta nel mio paese tanti anni fa, alla fine degli anni 70. Io rimasi affascinato da questa missione, volevo diventare passionista, allora si poteva entrare già dalle scuole medie. Purtroppo la mia famiglia me l'ha impedita, io non ho potuto eseguire la mia vocazione, poi la vita mi ha messo davanti tante scelte, tante cose diverse da quelle che volevo fare, fino a quando mi ha riportato nuovamente al cammino che volevo percorrere e che sono riuscito a fare. Nicola, quali sono state in questi anni di formazione le maggiori difficoltà e quali le consolazioni? Allora, la maggiore difficoltà è stata quella di non poter più fare la mia piena volontà. Io ero abituato a lavorare, avere sempre dei soldi, poter fare quello che volevo, le vacanze, qualsiasi cosa mi diceva la testa. Entrando in convento ho dovuto fare il voto di obbedienza, quindi obbedire a quello che mi diceva, la mia volontà veniva in secondo piano. Le mie maggiore soddisfazioni sono stati gli studi. Io ho la terza media perché ho fatto la scuola alberghiera, non è che ho frequentato delle scuole tipo lo scientifico, il classico, e mi sono ritrovato sui banchi di un'università cattolica a frequentare dei corsi che non avrei mai nemmeno immaginato, filosofia, teologia. Eppure il Signore mi ha aiutato tanto, veramente ha spianato davanti a me le strade, come dice San Giovanni Battista, e questa è stata la mia più grande soddisfazione. domani ti impegnerai con la congregazione per tutta la vita, come ci si prepara a questo giorno? Ma secondo me la preparazione non è degli ultimi giorni prepararsi alla professione, la preparazione nasce già da quando facciamo, almeno per me, la prima professione. Ecco, la prima professione già ti prepara man mano ad arrivare a questa, la professione perpetua. io mi sono preparato in un modo solamente, seguendo un insegnamento del nostro San Gabriele, di cui io sono innamorato, che bisogna fare sempre la volontà di Dio e ciò che piace a Dio piace anche a me. Quali sono i sentimenti che si provano alla vigilia di un giorno così grande? I miei sono molto particolari, io non ho più nessuno a casa e in questi giorni penso solamente a loro. mi piacerebbe tanto che mio padre e mio padre fossero qua con me, purtroppo non ci sono fisicamente. Il mio pensiero è verso di loro e mi sarebbe piaciuto che loro sarebbero stati presenti a questo evento. E io mi preparo con questo sentimento, questo sentimento di uno sposo che va incontro alla sua sposa e che lo fa con tutto l'amore possibile. Nicola, bella la tua gioia, bella la tua emozione, bello il tuo trasporto anche nel raccontarci la tua storia, ma dici oggi perché un giovane dovrebbe farsi passionista? Perché non c'è cosa più bella che servire il Signore. Niente, niente può ripagare. E come usando le parole di San Gabriele non cambierei un giorno di quelli che ho fatto per tutta la vita che ho trascorso. Dobbiamo pensare solo a questo. Un giovane dovrebbe riscoprire la bellezza di servire Dio con la sua vita. Dedica un pensiero agli amici dell'eco di San Gabriele. Sì, con tutto il cuore. Adesso faccio parte della famiglia passionista. Io leggo l'eco e da quando eravamo bambini si aspettava che arrivava l'eco di San Gabriele. Mi ricordo che cercavamo sempre gli articoli, mia mamma vedeva sempre le cose, le sbricciavamo tra le pagine. Quindi per me adesso diventare passionista è far maggiormente parte anche della famiglia dell'eco. E ringrazio di avermi accompagnato per tutti questi anni e spero di poter ancora soffrire di questa grande famiglia. Buon fratello Nicolino, tanti 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 auguri. Buon cammino, buona professione, buon percorso di santità anche dai nostri amici dell'eco. Grazie, grazie a voi. Grazie a tutti.